Neanche a 24 ore dalla rimozione dell'isola ecologica di Spinasanta, che fa seguito alla sospensione dello stesso servizio anche a Manfria, i primi risultati sono già evidenti. Nel giro di pochissime ore si sono già formati i primi cumuli di immondizie abbandonati nella notte. Una conseguenza prevedibilissima, considerato che le due isole ecologiche in questi mesi avevano ben funzionato, educando i lanciatori occasionali di sacchetto a depositare i rifiuti e soprattutto fornendo un servizio fondamentale per quei cittadini residenti nelle due zone periferiche della città, che finora non avevano potuto soffrire della raccolta ordinaria. Partite a fine agosto in maniera sperimentale, le due isole ecologiche hanno superato a pieni voti l'esame di utilità, eppure il Comune ha deciso di sospendere il servizio, ritenuto eccessivamente costoso, restituendo le zone di Manfria, Spinasanta, Priolo e Passo di Piazza ai furbetti del Sacchettino. Una decisione che non va giù ai residenti della zona, che si sono visti privare di un servizio essenziale. Per noi era un servizio assolutamente fondamentale perché non siamo coperti dal servizio di rimozione dei rifiuti porta a porta e quindi questa isola ecologica era veramente utilissima. Io sono stata costretta per tutto il mese di luglio, essendo residente nella zona di Spinasanta, a portare i miei rifiuti in città, seguendo il calendario cittadino e differenziando bene, la portavo sotto casa di mio figlio o dei parenti, che comunque non è consentito dalla legge, ma non avevo altra scelta. Poi è stata installata questa isola ecologica, c'erano quattro container per la raccolta differenziata, per me era fondamentale, andava tutto molto bene, tra l'altro funzionava molto bene perché alcuni giorni mi sono ritrovata con i container pieni e quindi a dover ritornare poi il giorno dopo perché la gente ha apprezzato molto questo servizio. Ieri è stato portato via tutto e come vedi alle mie spalle il risultato si vede, sono già stati abbandonati dei rifiuti probabilmente nella notte e la copertura qui era molto ad ampio raggio perché abbiamo Passo di Piazza, Priolo, Spinasanta che usufruiva di questo servizio. Adesso non sappiamo più dove, cioè da oggi noi non sappiamo più dove conferire i nostri rifiuti. Gli effetti dell'isola ecologica si erano visti perché erano cominciati a scomparire i cumuli selvaggi intorno alle vostre case e nelle vie in cui abitate? Assolutamente sì, noi abbiamo l'azienda al bivio per Passo di Piazza dove lì purtroppo l'inciviltà si faceva notare perché c'è proprio una zona dove vengono spesso abbandonati i rifiuti, il fenomeno era molto diminuito perché era stata fatta una pulizia probabilmente da parte del comune immagino e adesso io sono preoccupata perché lì sicuramente il fenomeno si ripresenterà. Purtroppo è vero che la rimozione dell'isola ecologica non giustifica assolutamente le persone incivili che abbandonano, però era stata molto utile, c'era stata d'aiuto, adesso sarà un po' complicato. Al momento però le isole non ci sono più, troppo dispendioso un servizio che paradossalmente viene bloccato perché funziona troppo bene. Questa è stata la risposta che ho ricevuto, non c'è abbastanza personale per riuscire a gestirli, quindi la soluzione li togliamo. Tra l'altro le persone che lavoravano in quest'isola ecologica sono a casa disoccupati adesso perché erano stati assunti proprio per questo lavoro, non erano già dipendenti, quindi ci sono anche queste due persone senza lavoro.